Cioè hanno difficoltà a perdonare. Soprattutto distinguono due ambienti, la chiesa e la casa. Anche a casa c'è un problema, perché quando non si perdona, puoi abbassare un pochettino, quando non si perdona i figli, il marito, la moglie, in quel preciso momento noi stiamo interrompendo la nostra benedizione. E non è la persona che ha un problema a casa e non lo mette a posto, porterà il problema in chiesa. E chi ha problemi a perdonare in chiesa, tranquillo, chi ha i problemi a casa e nel posto di lavoro. Perché il problema non sono gli altri, ma il problema siamo noi. Noi siamo il problema, voi siete la soluzione. Noi siamo la soluzione. E Dio è venuto sulla terra proprio per dire anche questo. E quando ha insegnato ai suoi discepoli a pregare, nell'insegnamento della preghiera ha detto prega in questo modo, dichiara la mia gloria, chiedi la benedizione, chiedi il cibo, chiedi la protezione dal maligno. Però a un certo punto dice, ma attenzione, devi pagare il tuo debito. Se tu non paghi il tuo debito, non perdoni, io non posso pagare il tuo debito, non posso perdonarti. perdonarti. Ecco che dipende da noi e non dipende da Dio. Dio l'ha detto proprio per facilitarci queste cose. E infatti l'ha messo nel Padre Nostro. Ma leggiamo a Matteo 6, versetto 14, 15. Dice, poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, i loro peccati, il Padre Celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. è un'esortazione al perdono, è imperativo, perdonate. Lo dice pure in Marco 11. Vedete, non possiamo dire a Dio, aspetta, non è giusto, un po' alla volta. Se tu vuoi ricevere, devi dare. Nella misura in cui ti liberi, è la stessa misura in cui ricevi. quindi se vuoi ricevere subito la presenza di Dio, l'amore di Dio, la grazia di Dio, il perdono di Dio, la mano potente di Dio, devi perdonare immediatamente. Ok? La difficoltà è che noi dobbiamo imparare che a perdonare non è un sentimento. Ok? Non sarai mai pronto a perdonare. se senti la carne, questo è troppo grande, questo è troppo difficile, questo non se lo merita. Se faccio così, poi ne approfitta. Tu non devi perdonare pensando a cosa faranno loro. Il perdono è un guinzaglio, il non perdono è un guinzaglio invisibile che tiene legati noi, non la persona che ci ha fatto male. no? La mancanza di perdono fa vivere il male dentro di noi. Noi ci ricordiamo la faccia della persona che ci ha fatto male. Se vediamo qualcuno che gli assomiglia e lo vediamo, qua sta! Ah no, non è lui. Perché hai avuto quella reazione? Perché in una visione della persona hai visto tutto il male che hai ricevuto. la paura di soffrire di nuovo. Ecco perché la prima cosa che Gesù fa è guarire il cuore. Quando tuo cuore è nelle mani di Dio tu sei capace di perdonare. Tu hai fede perché se tu credi in Dio e ricevi la guarigione del tuo cuore tu sei pronto a perdonare. Perché noi abbiamo paura di perdonare? Perché non riusciamo? Perché ci ricordiamo esattamente quello che ci è stato fatto. Perché dentro di noi c'è il dolore che ricorda quella cosa. Ma quando Gesù ci guarisce ci dà la possibilità di nuovo di iniziare una nuova vita. Ecco il cuore nuovo. Il cuore che non vive più dei ricordi e dei dolori del passato ma del momento in cui è nato di nuovo. Se tu hai difficoltà attenzione quando una persona è ferita quando una persona ha un dolore nel suo cuore e quindi non perdona non pensate che sta rovinando solo il rapporto con la persona che gli ha fatto male. Non se ne accorge ma sta diventando una brutta persona con tutti quelli che gli sono attorno. Perché? Perché da quel momento sta guardando le persone attraverso gli occhi del suo dolore. Se una persona ha ricevuto un dolore se tu sbatti il braccio e ti fa un male tremendo anche quando vedi gli amici si ciao vuoi sorridere vuoi andare con loro ma ti fa male e così è quando noi abbiamo un dolore dentro al cuore. Noi possiamo sposarci con una persona e poi vedere che quel matrimonio non va bene ma la verità è che siamo noi che non andiamo bene perché il dolore è dentro di noi. Noi possiamo pensare di aprire un'attività e avere i problemi con i dipendenti ma il problema è che siamo noi e non i dipendenti. Amen? Quando noi siamo guariti siamo rinnovati noi non abbiamo paura di nulla e siamo predisposti a fare cose nuove. Amen? questa è la bella notizia ecco perché Gesù dice di perdonare se tu perdoni io perdono te perché anche se mi rivolgo a Dio il mio cuore non è sincero tutte le preghiere che fa una persona che non perdona è una preghiera ipocrita falsa perché? perché ha dentro il malessere e fa finta o crede di poter parlare con Dio in uno stato di fiducia di trasparenza di collaborazione quando lui non sta collaborando il non perdono è un peccato che ci impedisce di ascoltare Dio e di ricevere Dio come ogni altro tipo di peccato amén quando Gesù ha parlato con i discepoli per quel bambino che era cieco nato cieco e gli apostoli hanno detto ma che peccato hanno fatto i genitori perché questo figlio nasca così innanzitutto stavano riconoscendo che il peccato ricade sui figli fino a farli ammalare ok ma lui specifica in questo caso non è così però gli altri casi sì quindi non sappiamo quale peccato ma il peccato produce maledizione sui figli e siccome noi siamo stati figli i nostri genitori con i loro peccati possono aver maledetto noi quando si interrompe la cosa quando noi decidiamo di non entrare in chiesa ma di seguire Gesù non tutti quelli che entrano in chiesa leggono la Bibbia pregano sono veri cristiani se la vostra giustizia non supera quella dei farisei e degli ipocriti gente che andava in chiesa e che addirittura secondo il popolo ebraico erano i modelli di riferimento il fariseo chi lo mette in discussione lo scriva chi lo mette in discussione no? eppure dice se la vostra giustizia non supera quello vedete Gesù non si fa incantare dalle belle parole dal bel vestito dal ruolo che rivesti in chiesa non se ne frega nulla lui guarda al nostro cuore e quando tu guardi nel tuo cuore attraverso la parola di Dio e sei a posto a quel punto tu puoi solo che sperimentare il meglio puoi solo che sentire la sua presenza ricevere il suo spirito e vivere in questo mondo di difficoltà con la vittoria tu puoi vedere le persone che cadono a fianco a te ancora adesso mille alla tua destra e diecimila alla tua sinistra quanta gente pur venendo in chiesa sono morti spiritualmente non hanno un indirizzo spirituale non hanno una famiglia che io neanche vorrei neanche copiare una brutta fotocopia vorrei e non sono le persone che sono morte al nostro fianco perché prima della morte fisica c'è sempre la morte spirituale non leggono non pregano non partecipano non parlano positivo e incomincia dal fiore della bocca è l'esempio che non sono persone che amano e persone che perdonano noi non dobbiamo sentirci meglio di quelli noi dobbiamo guardare al migliore al signore amén non dobbiamo fare le cose ah ma io tutto sommato è meglio di quello Dio non ha detto che quello va bene no se no facciamo come i farisei e Gesù dice attenzione non siate come quelli se voi non siete meglio di quelli voi non entrate nel regno dei cieli io penso che anche se siamo in coppia o ci conosciamo da vent'anni o siamo parenti se non superiamo il livello umano e diventiamo spirituali come Dio vuole noi non entriamo nel regno dei cieli tanta gente ha difficoltà ad essere presente la domenica e gli incontri ma ti dico una cosa se è così dura e non sei felice senta me lascia vai goditi la vita sulla terra perché tanto il premio non lo ricevi come si dice cornuto e mazziato hai sofferto in chiesa senza essere spirituale e poi vai pure all'inferno non hanno fede non parlano con fede non agiscono perché hanno sempre quel timore se va male cosa diranno e mi ha fatto questo cioè il cristiano una volta che conosce Gesù se la nostra bocca è paragonata a una fonte deve uscire solo acqua pura l'oda il Signore ringrazia Dio ameno quanti vogliono essere una sorgente d'acqua viva ameno quanti la vogliono essere in un deserto c'è il dubbio ma perché nel deserto ameno io voglio essere una sorgente nel deserto perché l'importante è che io sia una sorgente poi se attorno a me c'è la morte io non posso farci nulla io non sono Dio ameno ma è così che ti devi vedere una sorgente a casa tua chi è che parla di Cristo nella tua famiglia chi è che difende e onora il nome di Gesù chi è che porta i bambini della tua famiglia al Signore chi è l'uomo forte che tiene lontano il maligno capito? questo è essere la sorgente andiamo d'accordo ma ognuno è autonomo per la prima volta tu stacchi il cordone umbilicale da mamma e papà perché la fede di mamma e papà non vanno bene per te tu devi avere la tua fede ameno riceverai la tua fede ecco perché dice in Deuteronomio prendi i tuoi figli uomini mettili sulle gambe e predica la parola di Dio come se fosse un fiocco rosso tra gli occhi cioè li devi dare fastidio ameno ameno gli uomini che hanno figli dicono ameno spero che sia più rosso il fiocco rosso e grosso ameno se non gli parliamo noi di Gesù come mettono la testa fuori dal mondo seguono i modelli sbagliati ah non lo capisco più mio figlio ah ha preso una strada sbagliata guardi gli amici sta sempre lì sta sempre là per forza non l'hai fatto innamorare di Gesù ma Gesù te l'ha detto dall'inizio inculca le vie del Signore ai tuoi figli non ai figli degli altri ai tuoi figli tale padre amén dovremmo essere felici no? che somiglia a te e il tuo figlio cioè dovremmo essere allegri ragazzi ragazzi siete uguali a papà e mamma amén si guardano a dire amén sanno che puoi ne dire amén no? ipocriti falsi io non voglio essere come papà e mamma voglio essere diverso amén voglio essere di più voglio essere benedetto voglio conquistare la nazione i miei non hanno conquistato nulla io voglio farlo sento la chiamata di Dio non voglio morire nella droga nell'alcol o nel peccato ho investito la macchina io voglio morire servendo Dio devi dire io voglio morire non amén perché stavo parlando di perfetti miei stavo parlando per voi amén parliamoci chiaro il seme che non muore non porta frutto è inutile che cerchi di aggrapparti alla sedia la lasci qui ok? il conto in banca la casa che ti stai comprando la lasci qui io sono contento che quelli no signore voglio morire la casa e te la sfilano no non lo dare a quello invece quando sei libero sei felice amén perché la tua felicità non è per quello che hai ma per quello che sei quanti sono felici di essere qua stasera? veramente però abbassiamo le mani solo quelli che sono veramente felici me l'hanno abbassata pure amén Dio lo vede Dio vuole questo ma voi pensate che in paradiso c'è la tristezza? no? cioè Dio è gioia si sta bene c'è la pace ci sono le cose più belle le cose più buone no non si mangia riguardo al perdono vuol dire perdonare vuol dire prosciogliere vuol dire togliere gli obblighi questo vuol dire perdonare che quando Dio ti perdona tu perdi ogni cosa che ti stava bloccando sei prosciolto non è guardate il perdono non è una sospensione della pena è una cancellazione della pena perché tanta gente ti dice ti perdono però quando ti ricorda che però tu l'altra volta hai fatto questo sapete cosa sta facendo? sta portando avanti la tua condanna dice guarda che se voglio ti condanno ebbene la cosa è più brutta ecco perché quando si litiga bisogna pregare e perdonare perché lì noi prendiamo quella carta e la distruggiamo come Gesù l'ha fatta nei nostri confronti quando noi chiediamo perdono a Dio Dio butta via tutto quello che abbiamo fatto fino a quel momento di sbagliato e non ci imputerà più l'errore fatto se non qualcosa di nuovo allora anche noi dobbiamo perdonare e quando perdoniamo dobbiamo abolire la possibilità che tu è la cosa peggiore dire alla gente che tu hai fatto questo parliamoci chiaro i divorzi nascono dalla mancanza di perdono punto e voglia giustificare anzi accusano la chiesa o i pastori se qualcuno gli toglie una mansione o li come si dice li limita ad alcune situazioni ecco il mancanza di perdono non è mancanza di perdono perché la prima persona che non ha perdonato è proprio chi ha divorziato perché doveva perdonare e quando la coppia non va bene è perché non ha perdonato qualcosa vedete che poi il perdono è qualcosa che è tutti i giorni a fianco a noi in casa fuori di casa nell'ambiente di lavoro ora la giustizia deve fare il suo percorso noi non siamo coloro che perdonano gli altri il perdono è qualcosa che ha a che fare con noi qualcosa che ha fatto male a me ok io non posso odiare qualcuno o non perdonare qualcuno che ha fatto qualcosa a mimmo ok o devo perdonare qualcuno che ha fatto qualcosa a me chiaro posso essere dispiaciuto ma non posso se io già devo perdonare il mio figurati se io me la devo prendere perché qualcuno ha fatto qualcosa a qualcun altro anche della chiesa giusto tanta gente si va a impelagare in cose che non c'entra tu devi perdonare il tuo tanta gente va in panico perché il fratello è morto la mamma è morta il zio è morto ma io tante volte devo dire devo essere sincero tu tuo marito i tuoi figli o tua moglie come state andando bene ok sai perché perché tu hai creduto in gesù e questo ti ha protetto punto è chiaro che piangi per papà mamma il fratello ma se non accettano gesù non puoi farci nulla nulla amén cioè non prendiamoci in giro questa è la famiglia di dio noi possiamo andare via andare con la famiglia a mangiare divertirci ma quando dio salverà la chiesa e salverà i suoi figli quelli con cui ha mangiato quelli per cui magari non viene in chiesa non saranno con te se noi andiamo lì ma presupponendo che noi ci andiamo non è chi ha lo stesso sangue che viene in paradiso ma coloro che fanno la volontà di dio amén ecco perché uno che non ha famiglia è da solo è singolo è qui per la prima volta o ascolta per la prima volta se tu accetti Gesù in questo momento tu diventi parte della famiglia di dio e quando tu accetti Gesù da questo momento tu interrompi la maledizione sulla tua vita perché noi non abbiamo bisogno del prossimo noi abbiamo bisogno di Gesù amén tu non puoi avere coraggio se qualcuno ti appoggia tu hai coraggio perché credi in dio i figli di dio sono tutti dei leader perché sono figli di dio e sanno che in qualsiasi situazione si cimentano hanno l'autorità la capacità la potenza l'unzione di dio amén noi non siamo la coda noi siamo la testa ecco perché devi alzare la mano devi combattere e devi mettere le regole in casa tua e devi mettere i principi nella tua testa nel tuo cuore sei tu che devi entrare nella stanzetta sei tu che devi pregare sei tu che devi ricevere amén e meno male che così finalmente una volta dove tu lavori ti impegni e vieni ripagato non è come il mondo che tante volte ti dai ti presti e non ti riconosce niente nessuno anzi ti fregano finalmente qui anche l'ultimo che arriva se crede cambia la storia della sua vita non perché lo dico io ma perché lo dice il Signore e soprattutto perché inizi ad ascoltare a credere in Dio e questo per noi è motivo di gioia venire qui adorare Dio noi potevamo essere su un terrazzo in una grotta in un campo di concentramento col filo spinato noi possiamo lodare Dio amén fa che questo filo spinato non sia nella tua testa non sia nel tuo cuore nella tua religiosità amén la tua casa deve essere un luogo di preghiera dove vengono gli amici a conoscere Dio non a sentire falsità stupidità e cose che non servono amén tu sei nato da Dio sei dalla costola di Dio e ti riproduci in Dio e tutto quello che tu tocchi diventa Dio per dire parafrasando che tutto ciò che tu tocchi con la parola di Dio con lo Spirito Santo benedice quella persona vorrei già pregare e cantare perché mi sono quando arrivo a questo punto io devo pregare devo dire le cose amén il perdono comporta una trasformazione della relazione tra il trasgressore e l'offeso una restaurazione dei rapporti il perdono non esiste che tu dici ok lo perdono ma ognuno a casa sua ipocrita aggiusta il ruolo restituisci il maltolto metti a posto è difficile non è facile essere cristiano ecco perché una delle cose più difficili è perdonare ma Dio l'ha fatto con noi noi dobbiamo alzarci andare ad aggiustare le relazioni con le persone e chiedere perdono lì tu vieni perdonato come tu fai con gli altri io faccio con te e ripeto guardiamo prima in casa nostra guardiamo nella nostra chiesa casa nostra poi la chiesa parla di casa nostra nel senso chiesa no prima la casa c'è qualcosa che devi mettere a posto con tuo marito e con tua moglie ci sono dei disguidi dei litigi che stanno facendo male che puzzano di vecchio ci sono delle cose che non vanno è lì che devi andare e metterle a posto non far finta che non c'è nel senso che la butti sotto al tappeto perché la muffa la puzza si sentirà tu puoi nascondere il corpo ma la puzza si sente vedete che hanno trovato pure quello murato nel muro dopo 14 anni l'amante l'ha ucciso e l'ha messo dentro sono andato a far restauro quando hanno venduto la casa vedi un po' la sfortuna quindi non lo mettere nel muro perdonate agli uomini i loro peccati i loro falli il dovere di perdonare comprende tante situazioni l'offesa deve essere stata come ho detto prima fatta commessa nei nostri confronti quando dice se avete qualcosa contro qualcuno perdonate addirittura dice una parte se stai portando la tua offerta al signore il tuo sacrificio no prima portavano la colomba l'agnello il toro la muca dice non lo portare prima vai a fare pace non si signore veramente mi pento perdono quello no no vai a fare pace vai a restabilire perché è una persona che non ristabilisce i rapporti non li ristabilirà mai con nessuno quello non lo puoi vedere quello l'ho perdonato ma non posso toccare devi ricordarti dove sono le mine dove hai lasciato l'ultimo che non hai perdonato ma non ti parli ho tanta gente quando vive vive così poi sbagliano ecco che ha trovato la persona che non ha perdonato ok è importante il perdono del prossimo libera noi quando dice signore liberami dal male Gesù dice sei tu che devi liberarti da solo devi imparare a perdonare il regno di Dio è un regno di perdono nel regno di Dio entrano solo le persone che Gesù ha perdonato le persone che si sono confessate e pentite del loro peccato sono loro che entrano in paradiso in chiesa possono entrare nel tempio o chiesa intesa come luogo possono entrare tutti tutti ok pur i demoni entravano in chiesa vero o no pur i cambiavalute vendevano le colombe cambiavano i soldi di tutto quindi non è quello il problema stiamo parlando di chi sente Dio di chi è con Dio se tu perdoni tu non hai nessun tipo di problema avete notato che chi non perdona ha problemi con tutti in casa con i coniugi con l'inquilino vicino con le collega di lavoro con tutti hanno problema perché? perché non hanno messo a posto il loro rapporto con Dio non hanno imparato a chiedere perdono forse alcuni si sono magari sposati sono scappati di casa e invece dovevano chiedere perdono è importante ora se sono morti i genitori ok e comunque bisogna andare alla presenza di Dio e sentire un reale dispiacere ma noi dobbiamo imparare a chiedere perdono a me perché questo ti benedice se noi ce l'abbiamo quanti ce l'hanno con i genitori eppure dice no? siate sottomessi ai genitori non stai dicendo ai genitori buoni ai genitori se noi ci ribelliamo se noi li attacchiamo viviamo male è breve quindi tante volte i genitori sono la causa degli incidenti e della salute dei loro figli perché li portano a esasperare tanto da dire io ce l'ho con i miei genitori io ce l'ho con mio padre con mia madre perché hanno fatto questo ecco perché dobbiamo insegnare il perdono se Gesù ci insegna queste cose vuol dire che sono di vitale importanza il mondo non ti insegnerà questo ti dirà è un'altra generazione i genitori poi tu sei laureato loro sono hanno malapena la terza media quindi culturalmente non possono essere questo Gesù non sta toccando né l'intelligenza né la cultura sta toccando l'ubbidienza il rispetto l'amore questo è i valori amè? noi dobbiamo essere le persone di valore possiamo avere la terza elementare ma abbiamo un valore ma abbiamo un valore ubidiamo al nostro Signore stiamo plasmando il nostro carattere anche perché parliamoci chiaro tu puoi disquisire tutto quello che vuoi puoi dare tutte le tue spiegazioni ma se Gesù ti dice se tuo padre e tua madre hanno sbagliato tu li devi perdonare se vuoi andare d'accordo con me punto che sia chiaro eh ma ha fatto quello devi perdonarli che non vuol dire porgere di nuovo la schiena per farti coltellare no però il momento in cui esci di casa chiedi perdono per aver detto pensato li benedici se riesci a farti benedire bene perché attenzione poi voglio leggere subito delle cose importanti noi dobbiamo perdonare e ristabilire la cosa però ci sono delle parti dove dice se la persona chiede perdono allora lo perdonerete ok a volte delle persone anche se sono benintenzionate ma ignoranti dicono che dobbiamo perdonare una persona che ci ha trattato male ma trascurrono il requisito principale il trasgressore deve pentirsi e confessare il male commesso io ti perdono tu mi chiedi perdono però se non confessi o quando dice c'è un fratello che ha un problema con te lì deve venire confessare e chiedere perdono allora sarà perdonato ok ecco perché nelle cellule con il mentore dobbiamo imparare bene queste cose perché poi quando affrontiamo i problemi in casa della gente deve essere chiaro che se qualcuno ha un problema dobbiamo insegnarli non a fare la preghiera con noi e non mettere a posto nulla vai a casa chiedi perdono confessa il tuo problema allora sarai perdonato ok deve aggiustare il rapporto la sorella ha un problema vai dalla sorella chiedi perdono confessa quello che hai detto e preghi lì ricevi il perdono amen troppo facile dire oh signore vengono alla mia stanza facciamo come la chiesa cattolica confessiamo al prete e non alla persona oppure andiamo a confessarci in una chiesa lontana ah sono andato a Gerusalemme a Firenze sono andato a Lourdes e mi sono confessato potevi andare giù in Africa dall'altra parte no? non è che più lontano vai e meno si sa tu devi ristabilire il tuo la tua posizione amen è dura ma va fatta perché quello ti aiuta Cristo ha fatto notare specificatamente questo requisito quando dice se il tuo fratello pecca riprendilo se si pente perdonalo quando nelle cellule in chiesa qualcuno sbaglia dobbiamo prendere la persona e fargli vedere chi ha sbagliato e la persona se non si pente non può ricevere perdono chi perdoniamo? le persone che non chiedono perdono ma pensate che in paradiso facciamo una preghiera andiamo lì ma sai che massa di ipocriti sta in paradiso chiaro? quindi noi dobbiamo imparare qui che cos'è il perdono che poi una volta fatto io non penso che ricadrai a prendertela ad avere rancore verso qualcuno giusto? o a fare del male impariamo subito a perdonare perché questa risposta quando è uscita? quando Pietro ha detto ma se mio fratello pecca contro di me cosa devo tante volte cosa devo fare? e Gesù è specifico dice 70 volte 7 anzi fa l'esempio poi lo vediamo più avanti delle due persone che sono debitori la difficoltà di questo dovere evidenzia il fatto che non è facile vivere una vita santa perdonare non è facile ma dobbiamo farlo se no quale sarebbe il nostro prezzo non andiamo in croce non ce la possiamo comprare però perlomeno cerchiamo di ristabilire i rapporti giusto? imparare a perdonare e perdonare vuol dire riprestinare tutto come prima amén se voi perdonate agli uomini i loro falli il Padre del Celeste perdonerà anche voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre perdonerà i vostri falli che cos'è questa? la conseguenza del non perdono di Dio Dio non ci perdona se voi non lo fate Dio non lo fa e allora possiamo venire in chiesa fare la preghiera non succede nulla non siamo in sintonia con Dio i cieli non sono aperti ok? e parliamoci chiaro è la legge della semina quello che semini quello raccogli date amore diceverete amore perdonate sarete perdonati chiaro? vedete Dio non è difficile è semplice e tante volte noi invece facciamo la preghiera oh signore io lo perdono ma non lo voglio vedere basta che non abbiamo niente a che fare se è una società la dividi perdoni ognuno fa la sua no? ma devi perdonare se no che cammino è ci sono tante cose no? che parlano proprio di questa compensazione date vi sarà dato perché il giudizio è senza misericordia per colui che ha usato misericordia in Giacomo cioè ci sono tanti paragoni lui dice fai questo ricevi quello la misericordia è fatta con questa l'ira ripaga con quest'altro no? quindi la Bibbia è piena di esempi di questo tipo perdonate e sarete perdonati se vuoi perdonare gli uomini i loro falli il Padre vostro c'è e perdonerà anche i vostri è una grande ricompensa no? allora il Padre ti ricompenserà perdonando i tuoi vedete la gente la gente carnale non ha ben chiaro il valore di questa frase se dicessi guarda se tu perdoni avrai soldi lavoro bellezza agevolazioni perdonano tutti perdona e sarai perdonato cioè io devo fare un soldo di sacrificio per che cosa? ecco se noi non stiamo capendo che noi abbiamo bisogno di un perdono divino e spirituale che non capiamo che il peccato ci sta rovinando con Dio e siamo fuori da Dio e che essere qui e non aver perdonato vuol dire non avere niente a che fare con la Chiesa ok? non è venendo qui che cambiamo quando usciamo di qui noi dobbiamo portare agli amici che noi siamo cristiani ma non perché raccontiamo una cosa perché ci sono tante religioni che parlano di Dio ma noi abbiamo le soluzioni per la loro vita loro devono vedere come noi parliamo come noi viviamo ma al di là che lo vogliono vedere noi lo dobbiamo fare perché siamo attaccati a Gesù tu non devi venire qua se non con lo stretto riservo del cuore di io faccio parte del tuo corpo Signore parliamoci chiaro noi non ci conoscevamo giusto? ci siamo conosciuti per Cristo quindi io vedo in ognuno di voi che Dio vi ha chiamati ma non metto la mia vita nelle vostre mani vi amo se posso aiutarvi vi aiuto ma non perché sono il pastore perché sono così io qualsiasi persona trovo prego parlo indico se vuole venire io sono a disposizione con tutti ma non faccio quello per essere salvato faccio quello perché ho qualcosa che ho ricevuto punto quindi anche tu devi sentire questa gioia di essere tutto ciò che tocchi benedetto sarà salvato sarà tutto ciò che tocchi con la parola di Dio quando vedi qualcuno vieni qua vieni ti voglio parlare di una cosa hai questo problema? ok sappi Dio dice questo questo e questo se tu adesso hai bisogno preghiamo insieme e vedrai che da questo momento Dio interverrà nella tua vita tu sei in quel momento la pompa di benzina non sei la benzina ma tu lasciami pregare metto la pistola della benzina e quando arriverà la benzina che è la potenza di Dio la dempia della parola la persona mentre tu preghi ecco perché devi pregare la persona sentirà qualcosa ed è un chiaro segno che sta entrando la benzina di Dio lo spirito santo senza l'intervento di Dio queste parole sono chiacchiere le possono dire tutti e le dicono tutti la differenza dove sta è quando noi le crediamo queste parole allora sentiamo che Dio ci riempie non ti riempie la persona che sta a fianco a te anche se è tuo marito tua moglie un amico o chi ti ha portato ti riempie il fatto che tu stai dicendo sì signore io ho bisogno e dove ti trovi stai ascoltando in diretta o registrato ma le parole di Dio così come arriva il suono arriva la potenza amen c'è qualcosa che possa impedire alle persone a distanza di ricevere una guarigione di conoscere Gesù anche in un messaggio registrato non c'è niente anzi Dio si può servire delle cose dove tu non ti aspetti oggi è il giorno che Dio ti vuole parlare è il giorno che Dio ti vuole benedire amen la ricompensa Dio ci perdona perché ha versato attraverso il suo sangue quella grazia che ci libera e quindi ecco quando diciamo signore perdonami lui ci può perdonare perché è andato sulla croce più che sulla croce è perché è morto e quando è stato ucciso mentre lui moriva senza aver mai peccato lui ha perdonato i nostri peccati quindi quando andiamo e diciamo signore questo è il mio peccato ho sbagliato perché senti che qualcosa ti sta separando da Dio facciamo chiudiamo i nostri occhi chiudiamo i nostri occhi un attimo e prova a pensare in questo momento sinceramente chiudi i tuoi occhi non guardare a nessuno rifletti tra te e il Signore c'è qualcosa in questo momento che si sta mettendo tra te e Dio tra te e la parola che ti ha detto finora senza aprire gli occhi quanti possono alzare la mano senza che nessuno li veda e dire io ho qualcosa che è tra me e Dio sinceramente cosa vuol dire questo che Dio ti sta parlando e vuole che tu incominci a liberare la tua vita lui non vuole che questa cosa sia tra te e lui lui non la vuole e se tu l'hai vista anche se non hai alzato la mano è ora che la togli perché questa cosa ti spegnerà giorno dopo giorno è un grosso peso il peccato è un peso che toglie la vita ecco perché Gesù ha dato la sua vita per togliere il peso dalla nostra quando noi accettiamo Gesù avviene uno scambio a lui malattia infermità fallimento mancanza di vita spirituale e dico sempre una cosa ogni problema di qualsiasi tipo nella nostra vita è la conseguenza di un problema spirituale arriva il Signore arriva lo Spirito Santo cambia tutto non diventiamo spirituali tutto rimane come prima e la cosa bella è che tu lo senti e tu lo sai chi viene in questo luogo e ascolta Dio in questo modo non deve fare le cose perché il pastore ha detto il pastore dice da parte di Dio poi sei tu che ti devi mettere a posto con Dio non col pastore io posso io potrei anche non sapere mai qual è il tuo problema non è una necessità poi Dio mi può dire qualcosa del tuo problema perché non ti vuoi sbloccare avendo il dono di conoscenza ma è una tua decisione il perdono divino presuppone il pentimento se non perdoniamo chi ci ha offeso non siamo qualificati per ricevere il perdono perdona e sarai perdonato vedete noi siamo l'ostacolo non è che entri in chiesa non è perché ti camuffi in mezzo agli altri mi viene in mente l'esempio di quel re che stava scappando e quando il servo in mezzo alla gente che scappava lancia la freccia e questa freccia chi va a colpire giusto lui Dio sa come arrivare a noi non per colpirci ma niente è nascosto anche chi vuole far del male contro il popolo di Dio non sarà impunito quando noi passiamo sotto la protezione di Dio tutto ciò che è male che sia una maledizione che sia un attacco momentaneo o qualcosa che ci portiamo dietro rimane fuori dalle mura rimane fuori dalla benedizione di Dio perché noi siamo sotto la sua benedizione ma se noi non ascoltiamo Dio automaticamente noi siamo fuori dalle mura e siamo suscettibili di attacco Dio è buono bellissima quella storia quando dice che Gesù è come la chioccia per i suoi pulcini i pulcini quando arriva all'orario tutti e quanto tutto 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 vanno sotto la chioccia e lei si mette sopra e li protegge così è Dio voi non siete sotto il pastore sotto il nome di una chiesa ognuno di noi quando ubbidiamo stiamo andando sotto Gesù ed è lì che riceviamo il cibo la benedizione la gioia tutti quelli che cercano la gioia nelle cose del mondo l'appagamento di quello che dice la gente hanno fallita perché il momento in cui smette quella cosa sono tristi muoiono loro e tutto quello in cui hanno investito ma chi invece il suo investimento è nel Signore prospererà non sarà attaccato a nulla a nulla sarà sempre positivo amene perché Cristo vive in me noi non siamo di quelli Signore Signore dove sei? quando ti ha detto entrate nella vostra stanzetta e pregate non è che se tu per un motivo vai a fare le ferie oh Signore perdonami non posso pregare con te la stanzetta sta a bisceglie no? qualcuno ha fatto il furbo pastore io sono in ferie come faccio a pregare la stanzetta sta a 800 km no? ma ogni stanzetta è buona perché? perché la stanzetta è dentro di te quando ti fermi ad ascoltare Gesù lui ti parla io sono innamorato quando parlo con i fratelli e le sorelle e ci troviamo sai oggi ho pregato ho sentito una pace Dio mi ha detto questo poi con gli altri ma come va? bene hai pregato? no sì e che ti ha detto? niente cioè se tu vai al salumiere che non viene in chiesa per dire salumiere e gli parla di Gesù certo io prego ogni mattina cioè guarda questo mi ha dato più questo di qualcuno che dice di essere cristiano mi raccomando dai un valore alla tua fede alla tua preghiera sei tu che hai la chiave del tuo successo in Cristo amén non ascoltare il nemico non ascoltare neanche la tua carne perché la tua carne non vuole pregare come la tua carne non vuole perdonare non vuole dare niente a nessuno vuole solamente amén eh mo devo rinunciare a un lavoro devo rinunciare quei soldi a due ore di quegli amici a due ore di sonno quando corri da Gesù amén io sono innamorato di Teresa confessione io volevo essere con lei e lei c'è sempre ha corato con la bambina col freddo ha lasciato il marito non è mai mancata all'intercessione la mattina con il bambino in braccio viene e se la porta e viene qui e fa la cellula e il pastore è duro ma col suo mentore gli parla che Dio la benedica tante volte io spingo così come se qualcuno dice ma tu non hai sangue cioè non senti la sofferenza del popolo no? poi li guardo e dice meno male che lo fa perché talvolta io spingo perché devo spingere no? però dice ma poi prima o poi si rompe poi senti certe cose e dice no è andata è andata è andata così di ognuno di voi e Teresa non era facile era una che con il perdono adesso il mio biglietto da visita se voglio parlare di qualcuno che parla del perdono è Teresa amen? ma ognuno di voi può raccontarlo dovete solo uscire dalla vostra situazione avere fede fede in tutto ma non perché dovete fare piacere a me perché io godo vedere la vostra felicità la vostra vittoria la vostra testimonianza spirituale è la mia amen? non è solo i vostri problemi pastore è successo questo pastore va bene preghiamo però quando le risolvi vieni eh? signore ce l'abbiamo fatta pastore amen? quando lo vedi arrivare mo mi dirà qualcosa sai pastore è successo un'altra cosa pensavo che venivi a dirmi grazie non grazie a comunicarmi che Dio ti ha benedetto per quella cosa non ti preoccupare io vado avanti allo stesso però capito viviamo la spiritualità ogni giorno possiamo danzare al Signore oggi così girando ho trovato una canzone non sapevo che era un cristiano smile sorridi poi senti qualche parola che in inglese mastico però è possibile che un cantante canta queste canzoni così con queste parole e mi sono andato a prendere il testo e l'ho tradotto Gesù questo tempo dove c'è la come si chiama l'ansia la depressione fiscale no? ma a un certo punto la potenza dall'alto scende e rivede i cieli aprì e Dio a metà del ritornello alleluia Dio è buono è ritmo è bellissimo ho detto caspita si loda il Signore anche con queste canzoni no? e lo stesso cantante poi ha fatto un'altra canzone che è non piangere quella che ho pubblicato poi se andate a vedere su cosa è lì veramente cioè ti stava dicendo piangi con me la canzone non piangere ma io la sentivo e piangevo perché la melodia era un po' sai di quelle che trascinano tipo quando ritorna Alessi no? queste musiche che ti prendono le parole poi Dio è morto per te sulla croce il suo sangue ah Gesù è vero cioè quindi piangevo che era una bellezza sentitela piangerete anche voi certo vi ho messo non so su quella canzone non si ho messo le parole ma sull'altra si andate a vedere quindi per me sono regali perché sai sempre le solite musiche una cosa diversa una cosa di un genere che a me piace detta così le parole commoventi e ho ringraziato Dio ho detto grazie Signore avevo bisogno di una sferzata anche in questa musica per me poi gli altri possono piacere a me piaceva quella cosa e quelle parole in quel momento mi hanno incoraggiato tantissimo vedete Dio se tu chiudi la stanzetta e vai in qualsiasi modo cercherà di premiarti io non ti premio come pastore siete tanti non sono capace lo faccio santuariamente tu dici la pastore devi far di più a me chi lo fa a me quindi lo fa anche con te dobbiamo cercare il Signore se la nostra felicità è in Cristo saremo sempre felici e benedetti a me in Matteo 18 la versetto 23 spieghiamo questa cosa del perdono guardate come inizia perciò 18 23 il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi avendo iniziato a fare i conti gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti e non avendo questi di che pagare il suo padrone comandò che fosse venduto con lui con la moglie i suoi figli e tutto quanto aveva perché il debito fosse saldato allora quel servo gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo Signore abbi pazienza con me e ti pagherò tutto mosso a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare gli condonò il debito ma quel servo uscito fuori contro uno dei suoi conservi chi gli doveva cento denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi devi allora il suo conservo gettandosi ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò tutto ma costui non volle anzi lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito ora gli altri servi visto quanto era accaduto ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto allora il suo padrone lo chiamò e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai supplicato non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te e il suo padrone adirandosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva così il mio padre celeste farà pure con voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli penso che non c'è nulla da aggiungere ma io voglio aggiungere il debitore doveva dare tanti soldi diecimila in confronto una a mille questa somma è una cosa enorme questo debito enorme rappresenta quello dei peccatori verso Dio così noi siamo nei confronti di Dio tutti noi siamo debitori di Dio nessuno qua dentro giovane o non giovane può dire io questo argomento non mi interessa io non ho un debito come quello di mio padre nei confronti di Dio maschio o femmina giovane o anziano tutti siamo debitori nei confronti di Dio tutti siamo debitori nei confronti di Dio nessuno escluso non solo qua dentro tutti non c'è uno senza peccato se Gesù non avesse fatto questo per noi e attenzione lui l'ha fatto ed è lì ma solo quando noi decidiamo di pagare ci rendiamo conto che siamo in debito allora non potendo pagare ci rendiamo conto come ha fatto questo servo di buttarsi al ginocchio e dire signore perdonami non sono degno non sono capace non ce la posso fare neanche i miei se pregano per me possono liberarmi nessuno nessuno può fare qualcosa per te tutti siamo debitori abbiamo bisogno di andare da lui come quel servo piangere chiedere perdono e allora Dio addirittura non solo non ha detto ok ti faccio le rate per 40 anni gli ha condonato il debito amen se tu impari questa lezione stasera tu esci da qua senza alcun debito non ti devi guardare alle spalle non devi dubitare cosa accadrà non avrai la paura perché? perché hai capito che Gesù ha pagato il tuo debito e che hai iniziato una vita seguendo lui e non il mondo come hai fatto prima non pensare di venire in chiesa uscire di qui e vivere come hai fatto finora perché sarà un fallimento ok e il fallimento lo vediamo quando? quando uscendo di qui affrontiamo la vita e condanniamo le persone a quello che sono e a quello che fanno quando noi siamo stati liberati da questa condanna quel fratello è così quella sorella è così quando uno comincia a parlare male di altri si sta automaledicendo sta annullando la grazia che hai ricevuto ma se tu sei stato perdonato di un grande peccato ma come ti permetti di dire qualcosa di qualcuno lo puoi fare ma in quel momento cosa ha fatto il creditore ha richiamato quell'uomo che ha saputo e ha detto vieni qua tu sei uscito di qui dalla chiesa dalla presenza di Dio hai ricevuto lo spirito santo la guarigione conosci la parola è tutto esci di qui e stai condannando il mondo vieni qua ti sarà tolto tutto allora adesso paga il debito amén questo accade ecco perché tanta gente dopo un po' che inizia con Dio poi li senti che stanno male la loro vita peggiora hanno problemi perché? perché hanno dimenticato la grazia che hanno ricevuto da Dio sono stati perdonati e stanno giudicando gli altri non spetta a noi giudicare tu devi curare le persone che dipendono da te sei un mentore parla alla persona lascia stare gli altri non hai nessuno non star a giudicare il mondo giudica te stesso a me ma parla di perdono abbia un atteggiamento di perdono guardate che è semplice ma molto molto importante il perdono indica il perdono divino del peccatore inteso come anche compassione ok? il perdono è stato dato è stato dato quando il debitore il colpevole ha riconosciuto il peccato sono debitore non potrò farcela dammi tempo aiutami sono peccatore ok ti condono il debito prima prima la confessione poi il condono amén il perdono arriva quando chiediamo perdono meraviglioso Dio fa le cose in un modo perfetto quando noi seguiamo i passi le sequenze che Gesù dice noi non falliremo noi non facciamo le cose adesso come succederà cosa accadrà ma è giusto no perché noi abbiamo letto abbiamo capito e abbiamo fatto i passi giusti anche se ci fermiamo noi non dimentichiamo dove siamo e non certo torniamo indietro quando Dio mi dirà farò l'altro passo ma ora sono dove lui sta parlando Dio è fedele sempre rinnoviamo la mente amén togliamo le regole umane viviamo nel perdono notiamo che il perdono liberò il debitore quando Dio ti dice ok mi hai chiesto perdono ora ti libero dalla condanna tu dovevi perdere la famiglia la moglie i figli la casa andare in galera e chissà quando saresti uscito eppure per il fatto che tu con un enorme guardate per arrivare a un debito ci ha messo del tempo forse ha chiesto anche altre volte i soldi no ma arriva un momento in cui Dio dice ok adesso dobbiamo chiudere i conti e quando non ce li hai quando non sei a posto per quello ho detto chiudete gli occhi c'è qualcosa che non è a posto è lì che devi chiedere perdono a Dio perché quella cosa impedirà a Dio di perdonarti e il tuo debito cioè la situazione in cui ti trovi continuerà ad andare avanti tale e quale se non peggio perché perché ha il diritto di farlo ma quando tu vai da Lui e chiedi perdono Lui interrompe la maledizione sulla tua vita non importa cosa fanno i tuoi tu che ascolti questa parola tu stasera ricevi il perdono della tua vita amen non te la dà un uomo tuo padre tua madre un vicino tanta gente poi si arrabbia ecco gli amici tu vedi su facebook gli amici parlano da dietro gli amici sono così meglio cane che un amico meglio una zamba che una mano cioè tutti così non hanno capito che loro sono il problema loro non sono gli altri amen scrivilelo sotto a quest'amico guaglio si tu un problema risvegliati quando tu perdoni cambia tutto amen l'ho detto così ma è la verità o no giusto io oggi ho messo quel link e fallo no si può sbagliare ma è diabolico perseverare noi siamo figli di Dio siamo chiamati a cambiare come sono le persone che non perdonano? come un gatto intagenziale la cuda tanto ciao come va? ti voglio bene avete mai visto i cristiani così? a me? guardiamocelo spiego che non siamo noi però alcune volte perdoniamo incoraggiamoci dice quando parlate tra di voi non doperate parole inutili ma se dovete parlare bella sta cosa già quelli se dovete parlare nel senso che non è obbligatorio dite cose che edificano amen dille al tuo marito o a tua moglie quando parla che dice le stupidate ti ricordi che ha detto il pastore l'ha preso dalla Bibbia comunque l'ha detto il pastore ma l'ha preso dalla Bibbia amen la Bibbia dice se devi parlare andiamo verso la fine guardate la cattiveria di chi non perdona esce da lì e va a trovare un suo debitore ah ma quello quando esce fuori dalla chiesa si trova con gli amici hai visto quel fratello ma hai visto quella persona il vicino di Camodò cioè il veleno stai giudicando stai no magari un giudicando poi dice perché non viene nessuno in chiesa li hai avvelenati tutti no come può dire dire signore fammi salvare qualcuno hai buttato veleno su tutti quello è così quello è quella poi vai in preghiera e dice signore dammi qualcuno da evangelizzare detto no l'ho data a quell'altro che gli voleva bene no è vero o no questa è la cattiveria di quell'uomo è uscito ha preso uno che se tu hai risparmiato non so tipo saranno un milione di euro quello avrà avuto mille euro di debito l'ha mandato in prigione però quello noi siamo quando dimentichiamo cosa ha fatto Dio per noi perché noi giudichiamo per me mille euro sono mille euro fai niente che io poi ne ho un milione con lui ma mica li trovi a terra mille euro no dimentichi che tu hai avuto un milione a terra e così siamo ecco perché dobbiamo perdonare a me invece l'immagine di Dio l'immagine di colui che è disposto a perdonarci qualunque tu cosa abbia fatto stasera o che ascolti da casa o che sei qui vai alla presenza di Dio viene alla presenza di Dio tu troverai il il signore il creditore che è pronto a toglierti il debito da sopra la tua vita la taglia sulla tua vita amen se tu ti stai chiedendo perché non sono felice perché le cose non vanno perché tutto quello che fa sta accadendo ti posso dire una cosa c'è una maledizione in atto sulla tua vita c'è una conseguenza del peccato sulla tua vita e sta agendo nella tua vita ma se tu chiedi perdono ritorni all'amore di Dio al vero amore tutto sarà tolto perché Gesù toglie questo debito perché il debito è un peso sulla vita delle persone amen quindi se ascoltiamo quello che Dio dice lui ci toglie questo peso e poi la punizione che lui riceve questo questo uomo no la sua richiesta di perdono fu revocata cioè quella parola proprio mi mette la pelle d'oca vieni qua io quando dico vieni qua come l'interrogazione a scuola schiavini mamma mia la febbre oppure quando ti chiamano i carabinieri vieni qua ma non mi fa che sta tutto a posto no cos'è vai dal dottore le analisi vieni qua ma no cosa c'è di non le analisi no tutte queste cose così vero o no o ce l'ho solo io sovete tutti gli ansi so per cosa pregare alla fine quando succede questo perché ti richiama e ti dice ok allora io adesso ti ridò tutte le cose che non vanno adesso paghi ritorni come eri una volta con le tue sofferenze i tuoi fallimenti e quant'altro è brutto è brutto trovarsi Dio perché dice io ti perdono così come tu hai perdonato loro così come tu tratti loro così come tu non hai rispetto di me così come tu non credi in me così come tu non semini in me io non semino più in te date e vi sarà dato date ascolto e riceverete benedizione vedete tanta gente sta dicendo a Dio apri l'acqua e io ho fede ma Dio dice esattamente il contrario metti i piedi nell'acqua per fede e io aprirò l'acqua fede è vedere il traguardo prima di arrivarci fede è certezza delle cose che speri speri ma devi avere fede perché questa fede dimostrerà le cose che adesso non si vedono quando tu preghi con fede Dio ti prende da spazio e tempo ti porta nel problema tu sei nella cameretta preghi per il problema ma in realtà con gli occhi chiusi tu ti trovi stai pregando per qualcuno allo che sta male tu ti trovi nella sua camera avete mai notato vi trovate all'ospedale dove lui c'è giusto e cosa fate là pregate e Dio vi fa vedere cosa farà attraverso quella preghiera quando finisci di pregare dici amen apri gli occhi dove ti trovi a casa tua ma nel momento in cui hai pregato sei stato trasportato nel futuro dove Dio compierà la cosa e se tu sei in una buona relazione con lui tu vedi esattamente cosa accadrà ecco perché se preghiamo prima preghiamo meno dopo perché avete notato quelli che pregano dopo è una rotura di scatole il Signore aiutami il Signore cambia il Signore fai così il Signore perché non lo fai il Signore ce l'hai con me e il Signore con l'altro devo fare invece quando preghi prima come Nehemia è salito sul monte sul muro si è messo in ginocchio ha pregato ha visto il problema ha pregato per il problema ha pregato per cosa fare ha avuto il tempo in quanto tempo doveva fare la cosa quando ha finito la preghiera è andato dal re gli ha dato il permesso di 52 giorni gli ha dato il legname gli ha dato la carta per passare le varie terre ha fatto tutto è tornato a casa nel tempo e nei modi in cui Dio aveva fatto vedere Amen Dio non ha finito di far vedere cosa deve fare nella nostra vita Amen siamo noi che non passiamo il giusto tempo con Dio ecco perché Signore disperati disperati svaniti impauriti ma i figli di Dio sanno Gesù Dio è tuo padre è vostro padre siete sicuri? 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 lo sentite? quando entrate in preghiera lo vedete? sì e ascoltatelo ascoltatelo noi stiamo parlando del re del re stiamo parlando di colui che ha creato l'atomo le particelle il mondo dal nulla quindi noi non siamo nulla nelle sue mani eppure lui ha così tanto rispetto così tanto amore perché noi non dobbiamo essere felici noi dovremmo lasciare tutto quello che abbiamo e anche essere qui alzarci in piedi salire sulle sedie dove vuoi e cominciare a fare festa a Dio perché il re del re il Dio che non so neanch'io come fatto è innamorato di me prende cura di me mi ha lasciato una parola scritta da migliaia di anni dove la gente non crede o dice il contrario però noi invece che lo mettiamo in pratica così senza modificarla stiamo vedendo miracoli di ogni tipo amèn che altro deve fare Dio per dimostrarti che ti ama che esisti perché non cominci a credere in te stesso come Dio crede in te stesso perché non smetti di ascoltare la voce del passato dei fallimenti del dolore delle prese in giro e non cominci a guardare e a parlarti e chiamarti con il nome con cui Dio ti sta chiamando figlio mio figlia mia non puoi piangerti addosso se i tuoi hanno sbagliato se qualcuno ti ha rovinato la vita c'è un tempo per cambiare vuoi cambiare vuoi piangerti addosso per il resto della vita lo decidi tu in questo momento il potere di dire voglio cambiare ce l'hai qui in questo momento amen devi solo sentirlo devi sentire che è il momento di non dico neanche di rischiare perché non è un rischio parliamoci chiaro seguire Gesù non è un rischio vorrei quasi metterlo perché tanta gente c'ha più coraggio a dire mi gioco cento euro mille euro su quel numero l'attenzione la paura il battito del cuore qua senza rischiare senza pagare puoi cambiare non qualcosa la tua vita gratuitamente ti posso dire una cosa la tua vita è scritta qui dentro c'è scritto da dove vieni c'è scritto dove andrai c'è scritto come finirà che Dio ci dia la capacità di amare la sua parola ecco perché dice costodisci la tua parola dove nel tuo cuore perché è lì che tu ami Gesù amene è lì che incontri Gesù è lì che fa l'opera più bella Gesù smettila di fare passi sbagliati che Dio ti dia la forza di capire che stai facendo un sacco di errori perché stai seguendo ho visto un link dove c'era scritto finiva con segui il tuo cuore l'ho salvato sul telefono perché mi piace queste cose che ogni tanto poi le voglio proiettare ma è la cosa più sbagliata seguire il tuo cuore ragazzi ragazze se voi state seguendo il cuore state scappando dai problemi ma vi infilate in una strada peggio dovete prima fare un passo guarire il vostro cuore quando senti che sei guarito allora inizia sempre però con l'aiuto di Dio se dici alle persone che sono guarite pregate in spirito perché lo spirito santo sa di cosa è giusto pregare cioè vuol dire tu hai il cuore a posto ma non sai ancora per cosa pregare fidati dello spirito santo figuriamoci fare delle scelte se pregassimo prima di fare le scelte piangeremmo di meno dopo quanta gente abbiamo messo delle regole per i ragazzi quanti ragazzi hanno fatto a modo loro e quanti di loro hanno pianto tutti tutti quelli che non hanno fatto come ne è stato detto che Dio dice di fare così hanno pianto tutti e non sappiamo come va a finire dopo il rapporto non è basato sulla comunione ma sui tappi metti a posto speriamo che cambia poi va bene poi quando arriva il matrimonio e si chiude la porta se non hai fatto quello che Dio diceva sarà un conflitto un conflitto non puoi pensare di sposare qualcuno pensando di farlo cambiare quelli erano i problemi prima e quelli entreranno nel matrimonio dopo tutto si può fare ma quanto pianto quanto dolore quante preghiere quanto digiuno quanti manda giù quando invece preparando signore cosa dici è lui è lei e Dio ti dirà Guidi parla di fichi ma io vedo meloni non ti sembra che c'è qualcosa che non va no signore ma poi lo cambio io faccio l'innesto quanta gente ha fatto così ma perché non dobbiamo fidarci di Dio Dio può ogni cosa ma anche se avessimo sbagliato e ora siamo incastrati in quella situazione chiediamo a Dio di togliere il peso e di raddrizzare ogni cosa nel modo giusto amè? non aver paura è Dio ma si fa chiamare padre ed è pure il suo suocero il padre tuo è il suocero del tuo coniuge tu prega il padre tuo che è il suocero se la vede lui amè? un applauso al signore amè? alziamoci per questo suocero meraviglioso alleluia ma tutto nasce dal fatto che Dio vuole perdonare noi vedete e e io vi perdonerò come voi perdonerete gli altri guardate la prima parte della preghiera gloria al tuo nome sia santificato il tuo nome venga il tuo regno tutto per Dio amè? e poi alla fine dice ok adesso che hai pregato in questo modo quindi mi conosci hai capito perché uno che prega così vuol dire che ha capito che è Dio quindi dice ok adesso passiamo al lato pratico ed è l'unica cosa che possiamo fare vedete il pane ce l'ho da lui lui ci libera dal male lui ci benedice però una cosa ha messo e dove l'ha messa? lì e perdonate come io perdono voi e io vi perdonerò come voi perdonate loro a quel punto non è più lui che fa le cose ma siamo noi a quel punto della storia a quel punto della preghiera ci mette in difficoltà oppure dopo averci agevolato ci presenta una cosa difficile ma basata su qualcosa che già è facile ok? dopo che abbiamo ricevuto ci viene più facile capire che questo gesto è una cosa di vitale importanza quando vedi qualcuno che ti parla e piange dalla rabbia dal rancore digli caro amico caro familiare voglio pregare per te perché questo rancore verso chi ti ha fatto male ti sta uccidendo non solo hai sofferto perché ti ha ferito ma soprattutto stai portando avanti un atteggiamento distruttivo lontano da Dio padre io ti ringrazio stasera perché con la tua parola tu ci rendi semplici delle cose difficili e ci spingi così delicatamente ma così vicino all'orlo del precipizio che dobbiamo solo fare un passo per passare dall'altra parte ma in questo gesto c'è un gesto di fede di ubbidienza ricorda se tu non perdoni le cose della tua vita non cambieranno non ci sarà pace nel tuo cuore non ci sarà gioia nel tuo viso e sapete i figli sono i primi a vedere che i genitori non hanno gioia in faccia quando vedo quei genitori che parlano con i figli e non si guardano negli occhi e non gli comunicano la fede con gli occhi la tranquillità i genitori sono gli idoli per i propri figli sono il rifugio sicuro come Dio lo è per noi non è per il gesto ma proprio per l'attitudine non permettere che il diavolo si insinui nelle ferite nei ricordi dolorosi nei sensi di colpa o nelle accuse decidi di gettare la spugna decidi di strizzare la spugna del dolore prova a immaginare che hai in mano una spugna zeppa di liquido che parla di dolore quando tu decidi di perdonare stai stringendo nella tua mano questa spugna così forte così forte che tutto il veleno tutto il liquido tutto il dolore della tua vecchia vita quando tu aprirai la mano quella spugna si riempirà di aria e non e non troverai più lo sporco dentro quello è un cuore rinnovato da lì il Signore può partire riempendoti del suo amore non avere dubbi Dio ti ama se qualcosa ti appunto stasera ti ha dato fastidio sappi che l'ha fatto per promuovere la fede la guarigione la benedizione nella tua vita e se tu ascolti da oggi io ti garantisco che la tua vita cambierà amen più di i tuoi occhi e preghiamo dedica questo minuto al Signore Padre nel nome di Gesù grazie per la tua parola perché la tua parola è una roccia dove costruire la nostra vita e quindi salendo sopra la tua parola possiamo guardare a un futuro nuovo a una direzione nuova e ubbidendo la tua parola noi abbiamo l'autorità di tagliare ogni legame con le maledizioni passate generazionali per chi è qui e per chi ascolta da casa ricevi in questo momento pace nel tuo cuore e le immagini negative brutte che ti stanno scorrendo nella mente negli occhi del tuo passato di dolore sofferenza di abbandono per coloro per coloro che si sono approfittati di te per coloro che ti hanno tradito rinegato ti stanno scorrendo queste immagini stai pensando a queste cose adesso nel nome di Gesù le leghiamo e le mandiamo via nel nome di Gesù lì dove ti trovi ricevi libertà lascia che Dio strizzi il tuo cuore cancelli i dolori perché i ricordi non andranno mai via ma non avrai più dolore su queste cose e lascia aprendo la tua mano così che simboleggia il tuo cuore che si riempia dello Spirito Santo dell'amore di Dio come un foglio nuovo dove tu possa iniziare a scrivere la storia della tua vita con l'aiuto di Dio sapendo che Dio mai ti tradirà Dio non racconta bugie Dio nessuno può dire che Dio è falso che non ha mai mantenuto tutto ciò che chiediamo nel nome di Gesù noi lo otteniamo perché è scritto perché è lui vigila sulla sua parola per questo ti ringraziamo Padre ti benediciamo benedici ogni persona che è qui ogni persona che sta ascoltando da casa Spirito Santo scendi porta la luce che stasera da questo momento nelle loro case mentre andranno a dormire sentiranno la tua presenza la tua parola il tuo amore e cambieranno e avranno il coraggio e la felicità di fare una nuova vita in Cristo Gesù grazie Padre Amen Alleluia Gloria a Dio Amen